Importante in questo progetto ovviamente il settore turistico che vi ha visti coinvolti in primissima persona. Sì, allora, siamo l'istituto Thomas Embury d'Impera, un istituto tecnico turistico, quindi per noi l'alternanza scuola-lavoro non ha soltanto un valore didattico, ha anche un valore formativo estremamente importante e rilevante. Il nostro progetto cerca di formare degli operatori turistici professionali, preparati da un punto di vista linguistico e anche nelle capacità e nelle competenze. Importante quindi un progetto che verta sul territorio, la conoscenza del territorio con progetti mirati. L'anno scorso l'abbiamo fatto su Villa Embury e quest'anno sul Parasio e questi progetti sono studio fatto a scuola, l'attività di guida poi sul posto e la traduzione in lingua anche degli opuscoli e delle brochure informative. L'altra parte rilevante è quella della partecipazione alle più importanti manifestazioni locali perché questi ragazzi in futuro dovranno promuovere il nostro territorio e lo devono conoscere bene da un punto di vista storico, artistico, culturale e anche degli eventi e delle manifestazioni. Quest'anno siamo riusciti, grazie alla Camera di Commercio e Un Camere, a portare avanti anche il discorso dello stagio all'estero che ci mancava. Quindi, grazie a questo progetto, abbiamo mandato quattro ragazzi nelle Camere di Commercio estero di Lisbona, Nizza, Francoforte e Londra. Lascio la parola a questi ragazzi che hanno vissuto in prima persona l'esperienza estremamente formativa e con forti ricadute poi su quello che è il loro percorso e il loro curriculum futuro. Allora, raccontateci la vostra esperienza. Io sono andato a Lisbona due settimane, ho fatto dieci giorni lavorativi e lavoravo come stagista e facevo tutti i giorni dalle otto fino alle cinque e mezza con un'ora di pausa pranzo e devo dire che mi sono trovato veramente benissimo perché mi hanno aiutato tantissimo tutti gli altri stagisti italiani e portoghesi. Mi hanno aiutato molto con la lingua, soprattutto per i primi tempi, però erano anche molto aperti nell'integrazione. Ho provato in prima persona cosa vuol dire studiare qualcosa a scuola e poi applicarlo nella vita reale perché sono stato due settimane da solo a Lisbona e lavoravo e poi andavo in giro per Lisbona da solo quindi ho imparato veramente cos'è per quattordici giorni vivere da solo e soprattutto applicare ciò che si è studiato a scuola nella vita, in quello che poi farò in futuro. Quindi è stata un'esperienza fantastica che mi ha fatto capire che questo è quello che voglio fare da grande. Tu dove sei stata? Io sono stata a Londra e ho avuto la fortuna di partecipare a uno stage della durata di dieci giorni lavorativi presso la Camera di Commercio Italiana e è stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto capire veramente come funziona il mondo del lavoro e i problemi che si possono riscontrare avendo a che fare con il pubblico e senza ombra di dubbio mi è servita molto perché ho capito cosa vuol dire essere veramente autonomi perché stare due settimane da sola a Londra potendo contare solo su me stessa mi ha fatto capire molte cose e mi è stata veramente utile. E la tua esperienza invece? Io sono stata a Nizza sempre per due settimane presso la Camera di Commercio è stata un'esperienza molto bella per me e molto importante perché mi ha fatto crescere a livello scolastico ho avuto modo di applicare la mia lingua francese e di interagire con lo staff e le altre stagiste francese e italiane è stata un'esperienza che consiglio vivamente a tutti e se mi dovesse ricapitare la rifarei ancora e ancora. Alla fine un invito Open Dive presso l'Istituto Tecnico Turistico di Imperia in Piazza Ulisse Calvi sabato 13 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 Vi aspettiamo! Grazie a tutti!